Il guadono in un'imprendizazione di più di sé, per cui dovranno le macchine e ora vanno tutti i uomini. Bostè è una professiona con imprendizati. Il più importante ha absolvito le imprendizati di 3 anni. Ossò vuole essere però sul piliare da più responsabili dati ed avventare selvicoltura. In questa testa c'è un'affare in la vita ed è difficile lavorare nel luogo fino a 65 anni. Per cui si naturalmente ha una facilità immensa della lavorazione. E' come blair Sprivels una fissa stilura naturalmente più exposta mentre oggi. C'è un aspetto, sì. Sul Silvania, Sozilvania, Schaffusa, Schweiz, Songail, Tessin, Turgovia, Uri, Zug ed al Principale di Liechtenstein. Il problema è ora lavoranza da guad e praticisti. Beate Filippe ha l'incumbenza difficile da abbagliare la lavoranza da guad e l'inestanza della scuola. Ci sono persone che sono già conosciuti. Per parte è quella che ha avuto la esperienza che avevano nella nostra scuola. Tutti quelli s'allamentano sapere della teoria. Per cui mi allegra l'autantica più che questa l'autantica torna in i managini ed è a loro assenza in questa situazione. Da loro collaboratori viene a loro sapere la madre resistenza. Ma perché è tutta questa teoria? Perché non si segui mai in l'autantica. Ma si guardate da percivare questa l'autantica della teoria, a Vainus già fa un grande pass. Seguiamo in la teoria, l'economia forestale è stata mi dada enorme maine in ultimi decenni. Per lavurs da guad dati adine maine denersi. In motivi di più che personal forestale scuola bain diventa adine più importanti. Las lavurs stanno venire fatta in una moda adine più efficiente, organizzata e planizzata anche meglio. Vesi uscìa è la professione della selvicoltura e tutte le lavurs che hanno da fare con il guad, esposte ad un progresso enorme. Io sono percepito che la professione della selvicoltura, del boschier e del capolavorare del guad veni a s'esviluppare in una professione fischi moderna nelle prossime zone. Grazie a tutti.